Per promuovere le conoscenze sull'impiego delle terapie a base di cellule CAR-T e favorire un utilizzo sempre più ampio e sempre migliore è nato un progetto in Italia che si chiama Progetto CAR-T, promosso dal Ministero della Salute e sotto legida di Alleanza contro il Cancro. Questo progetto sta già producendo i primi risultati, se ne è parlato molto qui a Roma durante la prima scuola sulle cellule CAR-T e noi ce lo facciamo raccontare da chi questo progetto appunto lo vive tutti i giorni quotidianamente e quindi lo conosce molto bene dal dottor Massimiliano Mazza che abbiamo incontrato qui a Roma durante la prima scuola sulle cellule CAR-T. Allora dottor Mazzi innanzitutto che cos'è questo progetto? Ce lo riesci un po' a raccontare in maniera sintetica? Certo grazie. Il progetto CAR-T è un progetto strategico dell'Italia che mira ad aumentare la conoscenza di questo tipo di terapie che sono molto promettenti per i pazienti oncologici, soprattutto quelli in un stadio molto avanzato. È un progetto che è di stampo preclinico ma che pone le basi per la creazione di un'infrastruttura che sia in grado di predisporre poi queste terapie sul tutto il territorio italiano in modo che tutti i cittadini possano beneficiarne nel luogo dove sono. Quindi è da una parte uno sforzo che mira a incrementare la conoscenza in primo luogo di queste terapie che sono terapie complesse sia da un punto di vista scientifico che da un punto di vista logistico e che però ha diciamo in questo momento delle ottime chance di funzionare. Alleanza contro il cancro gioca un ruolo essenziale in questo perché coordina praticamente il progetto. Il progetto è sviluppato sotto legida di Alleanza contro il cancro che è la struttura che promuove le attività di rete di tutti gli istituti oncologici IRCCS dell'Italia. Quindi Alleanza contro il cancro è il posto in cui vengono messe a confronto tutte le diverse competenze ed expertise dei vari membri e dove i diversi istituti cercano di sviluppare le proprie linee di ricerca. Dottor Mazza quanti sono i centri appunto coinvolti nel progetto e che tipo di dati vengono raccolti e analizzati? Allora i centri che sono coinvolti in tutta Alleanza contro il cancro sono 18 sono 18 IRCCS prevalentemente e di cui alleanza contro il cancro fanno parte anche alcune associazioni. I dati che vengono raccolti sono sia di tipo preclinico perché mirano appunto allo studio in laboratorio delle caratteristiche di queste cellule, di come modificarle, di come riescono ad attaccare il tumore sia i modelli cellulari che i modelli in vivo, quindi prevalentemente i modelli in topo, però predispone anche tutta una struttura o una tecnologia che possa essere poi fruibile dai più per trovare delle terapie cellulari a basso costo. Ecco e questo appunto l'altro obiettivo importante del progetto, cioè rendere il nostro paese autonomo almeno in parte per la produzione di cellule CAR-T, almeno per alcune patologie, probabilmente quelle diciamo così a più ampio impatto, come sta iniziando a accadere per esempio in Spagna. Ecco questo obiettivo è alla nostra portata, ce la possiamo fare oppure ancora presto per dirlo? Io credo che questo obiettivo sia alla portata perché ci sono istituzioni come l'ospedale pediatrico Bambin Gesù e la fondazione Tettamanti che hanno già dimostrato tramite trial clinici che le terapie da loro congegnate hanno un'ottima tollerabilità, sicurezza e anche un'ottima efficacia. Quindi se diciamo l'interregolatorio seguisse lo stesso iter che ha preso il nostro collaboratore spagnolo di Barcellona, possiamo dire che anche da noi sarà riconosciuto questo tipo di riconoscimento, di rimborso fondamentalmente per questo tipo di terapie. Dottor Mazza, prossimi passi quali saranno? I prossimi passi sono mirati a cercare di ottenere delle terapie allogeniche che siano in grado di quindi essere prodotte a basso costo e con un profilo di sicurezza migliore e inoltre il nostro obiettivo è quello di riuscire ad identificare dei vettori CAR che siano in grado di riconoscere diversi tipologie tumorali perché al momento la loro efficacia è stata dimostrata prevalentemente nei tumori ematologici ma c'è lo zoccolo duro nei numeri dei pazienti oncologici sono nei tumori solidi e nei tumori solidi abbiamo tutta un'altra situazione, dobbiamo riuscire a bypassare l'immunosoppressione che è tipica di questo tipo di tumori magari combinando terapie CAR T con altri tipi di trattamenti come potrebbero essere degli anticorpi bispecifici o delle modulazioni farmacologiche con specifici agenti. Il futuro però penso proprio che non potrà prescindere da questo tipo di terapie e perché la potenza che abbiamo oggi nella comprensione dei meccanismi del sistema immunitario di come possiamo sfruttarlo a nostro vantaggio è molto molto importante e la conoscenza continua ad andare avanti e questo progetto sta facendo una parte della storia in questo percorso. Bene, dottor Mazza, grazie per quello che ci ha raccontato e complimenti per il vostro lavoro. Grazie, grazie a voi.